Lunedì 9 ottobre 2017. Mancano 83 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda il patriarca Abramo. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Abramo e Denis. Accadde oggi. Il 9 ottobre del 1776, padre Francisco Palou fonda la Mission San Francisco de Assis, che darà origine all'odierna città di San Francisco. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 9 ottobre ricordiamo il cantante inglese John Lennon, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940. La citazione del giorno. L'amore nasce per appetito, dura per fame e muore per sazietà. Alessandro Morandotti. Dice il saggio. Corvi con corvi, non s'accecano tra loro. Proverbio ungherese. La parola preziosa. La parola di oggi è epigrammatico. La parola epigrammatico deriva da epigramma, una forma di poesia latina breve e satirica. Qualcosa di epigrammatico è per estensione conciso, astuto e mordace. Gli slogan migliori sono epigrammatici perché esprimono con sintesi un concetto sagace.